Musica Buonasera ai telespettatori del Fatto, oggi straordinariamente in onda di domenica e in diretta perché abbiamo un ospite importante nei nostri studi per la campagna elettorale in vista delle regionali in Abruzzo del prossimo 10 marzo, ci è venuta a trovare la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elislein, buonasera Buonasera, buonasera a tutti e a tutti Per Elislein si tratta del terzo tour elettorale in Abruzzo, visiterà credo anche la quarta provincia, quella di Vescara prima della scadenza della campagna elettorale, ha oggi incontrato gli elettori e i cittadini della provincia di Cheti in una giornata che non era iniziata bene per la comunità del centro-sinistra, della coalizione del suo partito Elislein, una giornata di lutto per una grave perdita che ha colpito una vostra candidata Sì, voglio esprimere davvero a lei e a tutta la sua famiglia il cordoglio per la scomparsa di Angelo Pelliccia così improvvisa è stato un dolore e naturalmente ci stringiamo a quel dolore e le siamo vicine e le saremo vicine anche nei prossimi giorni Ha avuto modo di incontrare la comunità del Partito Democratico della provincia di Chieti e soprattutto di vedere i tanti risvolti di questa provincia dal mare alla montagna, che idea si è fatto del territorio e delle sue problematicità? L'idea di una comunità molto orgogliosa che ha voglia di riscatto, ha voglia di cominciare a ricostruire delle opportunità per il futuro dei giovani che meritano di poter costruire una vita in questo territorio Lo vogliono fare, ma molto spesso, troppo spesso, hanno paura di quel futuro perché con contratti precari e salari così bassi pensano di non potercela fare Allora l'impegno della nostra coalizione e del Partito Democratico è dimostrare che anche qui una giunta regionale diversa guidata da Luciano D'Amico, come ha fatto da rettore dell'Università di Teramo può fare una fabbrica di futuro in questa regione e quindi costruire opportunità per non vedere i giovani andare via Abbiamo visitato diversi comuni, siamo partiti questa mattina da Vasto siamo partiti da un progetto per un polo per l'infanzia, 0-6 anni Io credo che i nidi siano un investimento fondamentale per il futuro di questa regione e di tutto il paese ma perché riducono le diseguaglianze tra i bambini e le bambine aiutano le famiglie e aiutano le donne e l'occupazione femminile perché quando mancano i nidi sono soprattutto le donne che purtroppo rinunciano a lavorare questo è un danno per tutta l'economia e poi siamo stati a Vasto naturalmente, dopo Vasto siamo stati a Lanciano a Lanciano siamo stati davanti al CUP a incontrare gli operatori perché il primo punto di programma fondamentale di Luciano D'Amico è la sanità pubblica la difesa della sanità pubblica la Giunta Marsiglio è invece passato il tempo a disinteressarsi della sanità pubblica che si svuotava, di reparti sempre più in difficoltà, di un personale sanitario stanco di liste di attesa che si allungano all'infinito su cui anche il Governo nazionale ha deciso di disinvestire noi vogliamo sbloccare le assunzioni, vogliamo rivitalizzare i reparti vogliamo sostenere gli ospedali di territorio e di comunità perché sono un punto fondamentale di riferimento specialmente nelle aree interne sono stata ad Avezzano, sono stata a Tagliacozzo dove è stato deglassato oggi insomma ci hanno raccontato delle fatiche chi oggi deve passare tre anni per aspettare una lista d'attesa rinuncia a curarsi se non ha i soldi per andare dal privato e questa destra spinge un modello di sanità pubblica smantellata in cui solo chi è ricco può saltare quelle file grazie alla carta di credito e al portafoglio gonfio e noi invece siamo per un sistema sanitario che si prenda cura di chi non ce la fa da solo, quindi un bel giro Questa situazione riguardante la sanità ma anche la scuola come rischia di evolversi nel caso passi il progetto di autonomia differenziata per una regione d'Abruzzo che è un po' la cerniera che è la prima del meridione e la più meridionale del nord? Ma sarebbe un disastro perché vorrebbe dire lasciare ancora più indietro le regioni che fanno più fatica questa è una riforma di autonomia differenziata che vuole spaccare il paese non hanno neanche avuto almeno l'accortezza di nasconderlo perché non hanno messo un euro su questa riforma vuol dire che a loro le diseguaglianze territoriali che colpiscono il sud di questo paese stanno bene così anzi le vogliono portare avanti siamo stati a Guardia Grele a portare omaggio ad un epigrafe che ricorda i veri patrioti quelli della Resistenza, quelli della Brigata Maiella ecco io non ho mai visto patrioti che spaccano in due l'Italia e in quello stesso comune a Guardia Grele c'è un plesso scolastico molto ampio che si vede sottratta l'autonomia scolastica quindi è un paradosso fanno una finta autonomia che è la legge del più forte perché arricchisce le regioni più ricche e impoverisce quelle che fanno più fatica e al contempo tagliano le autonomie scolastiche proprio nelle aree interne dove dovremmo mandare gli insegnanti migliori perché dove già è più faticoso vivere bisogna puntare di più e investire di più sul futuro dei nostri bambini e delle nostre bambine Schlein, oggi è una giornata di lutto anche per un'altra famiglia abruzzese quella del lavoratore che ha perso la vita a Firenze lei è stata molto dura rispetto alla normativa e soprattutto alla insensibilità rispetto a questo tema che deve avere una priorità assolutamente inevitabile in qualunque agenda di governo Abbiamo fatto una proposta chiara al governo si sta prestando a preparare delle misure per il prossimo Consiglio dei Ministri il Partito Democratico pensa che bisogna estendere alcune tutele previste nel codice degli appalti pubblici anche al settore privato non si scherza con la sicurezza del lavoro non possiamo più accettare di essere un paese in cui troppe persone si svegliano la mattina per andare a lavorare e non sanno se torneranno quindi la nostra piena vicinanza alle vittime del crollo di Firenze tra cui appunto una abruzzese alle famiglie delle vittime siamo molto vicini ma bisogna fare di più perché il cordoglio non basta noi chiediamo nello specifico che non si possa fare ribasso sul costo del lavoro e sulla sicurezza del lavoro chiediamo che a tutti gli appalti e subappalti si applichi il contratto edile ma non quelli pirata quello più rappresentativo cioè firmato dai sindacati realmente rappresentativi dei lavoratori del settore e chiediamo che ci sia parità normativa e anche remunerativa quindi economica tra i lavoratori degli appalti e dei subappalti altrimenti continueranno a esserci lavoratrici di serie A e di serie B e in una repubblica fondata sul lavoro non lo possiamo accettare La provincia di Chieti che lei ha visitato oggi è quella che traina un po' tutta l'economia regionale attraverso il polo dell'automotive su questo terreno anche il confronto che ha aperto con Stellantis da parte del governo che scenario apre soprattutto per i lavoratori abruzzesi anche quelli che si trovano nello stabilimento di Atessa Bisogna difendere la tradizione e la vocazione industriale di questo territorio abbiamo più volte lamentato come il governo nazionale guidato da Giorgia Meloni non abbia un piano di politiche industriali noi abbiamo lottato perché venisse dall'Europa il finanziamento, il famoso PNRR che è l'idea di un piano industriale europeo un settore come l'automotive è strategico per il nostro paese dobbiamo tutelare quell'occupazione invece non abbiamo mai visto il governo condizionare gli incentivi alla tutela dell'occupazione e alla riduzione delle emissioni bisogna alzare la voce non basta fare tweet ogni tanto per alzare la voce bisogna convocare Stellantis e Tavares in Italia al confronto con i sindacati e le parti sociali e costruire insieme il futuro di questi stabilimenti sapendo che la transizione non è semplice ma che noi lotteremo perché l'Europa metta tutte le risorse che servono perché sia una transizione giusta cioè che prende per mano imprese e lavoratori e ci fa fare un passo avanti come paese Che segnale può dare questo turno elettorale in Abruzzo alla politica nazionale? Qui è stato creato un campo molto largo attorno ad una figura di riferimento per una coalizione che va oltre anche il centro-sinistra Ma qui abbiamo creato una coalizione che mette insieme tutte le forze politiche alternative alla destra ma soprattutto anche quelle civiche quelle radicate in questo territorio che amano questa terra finalmente si può avere un presidente abruzzese per gli abruzzesi e con gli abruzzesi io dico sempre qui la differenza non la facciamo noi che veniamo da fuori la fanno le persone che vogliono riappropriarsi del proprio futuro e dopo cinque anni in cui c'è stato un presidente mandato da Roma calato dall'alto e che prende ordini di partito e non abbiamo sentito questo presidente alzare la voce né contro l'autonomia differenziata né contro il dimensionamento delle scuole delle aree interne dell'Abruzzo né l'abbiamo sentito protestare quando all'Abruzzo sono stati tagliati importanti fondi sul PNRR ricorderete la Roma Pescara oggi qualcuno mi chiedeva per strada ma com'è possibile che ci si metta di più ad andare da Roma Pescara che ad andare da Milano a Roma ecco anche sulle infrastrutture serve un salto di qualità e si sono sbrigati solo adesso in campagna elettorale a tirare fuori qualche accordo farlocco ma la verità è che in questi cinque anni di presidente Marsiglio non abbiamo visto il presidente Marsiglio fare una battaglia per gli abruzzesi senza anteporre invece gli interessi di partito Shain, ma la vostra è una coalizione soltanto per vincere o anche per governare? da questo punto di vista che garanzie dà Luciano D'Amico? la garanzia migliore è proprio Luciano D'Amico guardi, i progetti migliori funzionano quando hanno una proposta solida che tocca il lavoro, la scuola, la sanità l'investimento nelle competenze un progetto di sviluppo per questo territorio eravamo oggi a San Vito a vedere la via verde ecco, quella è un'idea di sviluppo porta turismo si dice che un chilometro di ciclovia fatta bene porta quattro posti di lavoro giovani che sono tornati per aprire delle strutture ricettive allora, tenere insieme imprese, associazioni e sindacati è quello che questa provincia ha sempre dimostrato di saper fare ma serve una regione che gli ascolti e Luciano D'Amico nella sua carriera quando si è occupato di trasporto pubblico locale quando si è occupato di università ha sempre saputo ascoltare non ha mai avuto la presunzione che vediamo in questa giunta regionale di avere la verità in tasca né ha mai dato impressione di farsi condizionare da ordini di qualcuno o da ordini di partito è una persona autonoma, innamorata di questa terra che ne conosce le piegature e le speranze e che con grande umanità si è messa a disposizione di un progetto collettivo credo che sia di questo che oggi ha bisogno l'Abruzzo per ritrovare una speranza e per ritrovare riscatto e ritrovare anche centralità nel dibattito politico nazionale e in questo contesto che garanzie danno agli elettori i candidati delle liste del Partito Democratico? Abbiamo una lista molto forte io devo ringraziare il Partito Democratico di questa regione perché hanno lavorato loro ci hanno già consegnato un'alleanza costruita sulla credibilità di tante persone che lavorano in vari settori artigiani, professionisti a Ortona abbiamo incontrato il settore agricolo che vive in grande crisi hanno avuto perdite del 70-80% sono persone che vivono qui tutti i giorni che ascoltano i problemi e portano soluzioni concrete tantissimi amministratori locali anche delle aree interne devo dire in un precedente giro abbiamo visto anche abbiamo visitato il comune di Aielli abbiamo visitato il comune di Sante Marie persone che hanno dimostrato come si possa invertire la rotta dello spopolamento e creare opportunità di lavoro di buono sviluppo e di nuova impresa per i giovani del proprio territorio io credo che non potremmo essere più contenti di venire a supportare una lista forte come quella del Partito Democratico grazie grazie a Gilles Line del tempo che ha riservato anche i nostri telespettatori buona serata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.